E' da tempo che Lucio Pastore pensava a un gesto di rottura con la dirigenza ASREM, sorda a tutti gli appelli e le richieste di aiuto lanciate dal primario dei due pronto soccorso di Isegne e Venafro. Pastore si è dimesso da quest'ultimo incarico, spedendo una lettera che è un vero e proprio atto di accusa nei confronti dei vertici della sanità regionale, che appaiono del tutto reticenti a mettere in atto quelle misure necessarie a rendere realmente funzionante la medicina d'emergenza al Santissimo Rosario. Per tenerlo aperto c'è bisogno di un minimo di quantità di personale, questo non è presente. E la situazione è scoppiata proprio nel momento in cui si è ammalato un medico e un altro è stato trasferito in un'altra regione, cioè si è trasferito in un'altra regione. Per cui l'organico medico del pronto soccorso di Venafro è composto attualmente da tre unità. Grazie all'aiuto di alcuni colleghi del 118, volontario a questo crisi, si è riuscito a tamponare un po' la situazione. Io ho proposto anche delle soluzioni per andare oltre questo momento di crisi ed era praticamente di utilizzare appunto il personale del 118, che ha un monteore che deve svolgere nei pronto soccorsi, invece di svolgerlo ai serni, almeno per questo periodo, avrebbe dovuto svolgerlo a Venafro così si sarebbe tamponato tranquillamente la situazione. Ma io non ho un potere giuridico su questo personale. E quando sono andato a chiedere all'amministrazione di intervenire, questo non è successo. Per Lucio Pastore, dietro l'indifferenza e l'assordità dei vertici ASREM, si nasconde il vero obiettivo, che è quello di privatizzare del tutto la sanità pubblica. Il vero senso del renderla più privata e meno pubblica sta nel piano basso, che sembra sia quello attualmente in atto, laddove ci sta il 40% dei posti letto ceduti ai privati, viene ceduta ai privati una quantità enorme di strutture per quanto riguarda il territorio, abbiamo un insieme di servizi che vengono lasciati ai privati, tipo i laboratori, 17 laboratori convenzionati, mentre si chiudono quelli pubblici, cioè i tre laboratori dei piccoli ospedali pubblici vengono chiusi. La cessione della neuro-riabilitazione non a una struttura che deve essere riconvertita, tipo Venafro, ma a una struttura privata. In sostanza noi già adesso abbiamo 170 milioni di euro del fondo sanitario regionale che sono drenati da privati convenzionali.